Passiamo al volley, passiamo alla Sir che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, vincendo 3-0 contro Tours. Quarta vittoria consecutiva, sedicesima consecutiva in tutte le competizioni. In Champions come in campionato, la Sir Perugia non conosce più il significato della parola sconfitta. Nella principale competizione europea i Block Devils liquidano i francesi di tour e restano al comando del girone a punteggio pieno, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale. Adesso basta un punto nelle prossime partite per formalizzare il passaggio del turno. Ainen cambia molto secondo il suo credo, la rosa è ampia e variegata e va sfruttata in ogni elemento. Quindi Zukoski in regia, Ricci e Russo centrali, Lanza e Plotnitsky in posto 4. Non cambia invece l'atteggiamento e la qualità della squadra. Vittoria autoritaria in 3-7 con 12 esi e 8 muri vincenti. Uomo partito hole Plotnitsky, il mancino ucraino, tira fuori dal cilindro una gara meravigliosa con 18 punti, 5 esi, 2 muri e il 55% in attacco e soprattutto tanti colpi di classe cristallina. Doppia cifra anche per Atanasievic e un'eccellente lanza, mentre Leono, dopo il rinnovo di contratto, si è presa una giornata per rifiatare. Per Perugia oggi è un giorno di riposo, ma da venerdì si torna in palestra, domenica al Palabarton arriva a Padova per continuare la rincorsa.